La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. La tempesta sta causando interferenze. Non dirlo a me. Ho presso i contatti con la norma. Qual è la vostra posizione? Non ho capito. James, puoi ripetere? Qual è la vostra posizione? Dovrebbe essere aperto. Non sembra essere stato forzato. No, bisogna bypassare i protocolli di sicurezza. Hmm, curioso. Ah, grandioso. Amo a girarmi nel buio. Qualcuno ha risucchiato l'aria della stanza mentre erano ancora dentro. Sembra che siano morti mentre cercavano di uscire. Questo è portale persino per gli standard di Cerros. No, non credo. Ho visto il progetto Overlord. È stato un massacro. L'ultima volta. Oh, cazzo. Quali sono gli ordini? C'è una forza dell'alleanza qui nei baraggi. Dobbiamo tenerli alla larga dal nucleo. E' fatto. Fatti un colore. Nessun tesoro? Aha! No. Oh, sono infrangibili coi pugni. Gli spari invece crollano. Che è una meraviglia. Dobbiamo presurizzare la stanza. Ci siamo. Abbiamo accesso ai laboratori. Da lì arriveremo alla stazione della rotaia. Ehi, c'è una registrazione di ciò che è avvenuto qui. Stazione di sicurezza, mi dicevi? Rileviamo una strana attività qua giù. I protocolli di sicurezza si sono attivati. È tutto sigillato. Dottore, le invierò un rapporto non appena... Ora sappiamo com'è entrata Cerberus. Avrei dovuto capirlo quando l'ho incontrata. Ero così concentrata a trovare un modo di fermare i razziatori. Fermare i razziatori è l'unica cosa su cui concentrarci. Non è colpa tua. E se avessimo torto? Se non esistesse modo di fermarli? E se fossero i nostri ultimi giorni? Li sprechiamo per risolvere un problema privo di soluzione? Dai, Yara. Lo so. Non dovrei pensare a queste cose. Non so come tu faccia. Sei sempre lucido, anche nelle situazioni peggiori. Quando la posta in gioco è così alta, penso a cosa perderei se fallissi. È un fardello terribile. Li fermeremo, Yara. Insieme. Grazie, voglio crederti. Bene, la porta è aperta. Da lì potremo raggiungere i laboratori e la stazione della rotaia. Bene, andiamo. Ma come ha fatto a respirare la dottoressa? Non aveva un casco, eppure ha tolto tutto quanto l'ossigeno. Squadra, ecco. Voglio un periodo che torniamo alla stazione della rotaia. Nessuno deve entrare nel suo... Minuto. Squadra, ecco. No, sono a posto così. Non ha fatto in tempo a finire, cavolo. Perché è che ti chiamo? Guarda che non le arco, non la messo oggi. Il futuro è al mirato. Granatina. Preso e affondato. Ah, ma che bella novità. Si sono anche attrezzati con degli scudi adesso. Diamine. Pazienza, ho il mio fucile di precisione. Slow. Tutti quanti al tappeto, eh? Come non detto. Non arrivano ancora! Porto, no! Mancato. Credo. Tutti quanti al tappeto. avviciniamoci un po'. Che ne dite? Ghiaccio. Dai, venite fuori. Scusa, hai perso la testa. Ne ha colpa. Accidenti. ... Non importa, non importa. ... ... Grazie a tutti. Ma cos'è questa bruza? Hanno attivato i protocolli di decontaminazione. Con il personale ancora all'interno. Vediamo un po' così cosa riesco a trovare. Ecco, un piccolo tesoro. Qui è dove hanno analizzato i vari manostrati. Cosa hanno scoperto? E hanno scalfito solo la superficie. C'è un sacco di materiale zeppoli da Tiprotean che non sono mai stati analizzati. Riproviamo. Via Kaidan, per favore. Ehi! Oh, ecco. Questa è la battaglia. Ci porterà dritti e avventura. Senza dubbio Cerberus l'avrà bloccata. Speriamo di poterla bypassare dalla stazione di sicurezza. È da questa parte. Quale parte? Ah, ovviamente l'altra. Ma non mi dire. Immagino che quella sia l'unica entrata, eh? Così sembrerebbe. Lo aggireremo. Restate fuori dalla sua visuale. Andrò per primo. Non lasciate che vi puntino! Attacca! 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 Via! Maledizione! Da qui le torrette non possono colpirci. Ah, perfetto. Veniamoci. Disintegrate. Disintegrate. Oh, no, che diamine! Mh, basta con questi fumogeni! E lancia questa cavolo di granata, Shepard! Conveniente, non è vero? Organizzate un perimetro, non deve passare nessuno. Abbiamo ancora delle squadre dall'altra parte. Ho detto nessuno. E spegni quelle telecamere. Sembra che abbiano raggiunto gli archivi. Dubito che ci mantino una vettura. Poi vai passarla. Gli archivi operano su una rete diversa. Siamo tagliati fuori. Non se troviamo un comunicatore a corto raggio. Acasco, acasco. E? E li convinciamo che siamo con loro, dicendogli che le forze dell'alleanza sono state eliminate. Buona idea. Vedi cosa riesci a trovare. Cosa? Il maggiore è diventato molto abile. Concordo. Comandante, ho trovato qualcosa. Che hai scoperto? Ha un trasmettitore nel casco. Se potessi... Ma che cazzo! Prontante. Non proprio. Di sicuro gli hanno fatto qualcosa. Chi parli di Cerberus? Farebbero una cosa del genere a un loro simile. È questo che ti hanno fatto? Come puoi paragonarmi a lui? Shepard, non so più chi o cosa sei. Non da quando Cerberus ti ha ricostruito. Per quanto ne so, potresti essere una loro marionetta controllata dall'uomo misterioso in persona. Non è giusto, Kaidan. Non c'è bisogno di spiegazioni. È comunque dubito che capirei. Voglio soltanto sapere. La persona che ho seguito in battaglia è ancora lì, da qualche parte? Non mi hanno cambiato, Kaidan, ma le parole non ti convinceranno, non è vero? Probabilmente no. Lo immaginavo. Sei sempre stato testardo. Io? Coraggio, vediamo cosa combina Cerberus. Forse avremo risposte. Salve. Qui è la squadra Delta. C'è qualcuno? Dove diavolo eravate finiti? Non importa, com'è la situazione? Siamo alla stazione della rotaia, in attesa dell'estrazione. Nemici eliminati. Ricevuto. La squadra Echo procederà per occupare la stazione. L'hanno bevuta? In caso contrario, lo scopriranno presto. In posizione. Affiancarli quando scendono. Ottima idea, maggiore. Era da tempo che non usavo questa strategia. Va bene. Tu qua dietro. Va bene. Stanno arrivando. Maledetti fumagini. Voila! Tiro al piattello. Tiro al piattello. E tu perché non vorresti? Diamine. Il piano B funziona sempre. Fermo, bravo. Ho detto fermo! Oh, vaffanculo. Oh, questa sì che è soddisfazione. Ancora un secondo. Devo sempre controllare se c'è qualcos'altro. Non si può mai sapere. No, siamo a posto. Oh, quasi a posto. No, siamo a posto. Non c'è. 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 la tempesta sta peggiorando sarà bene fare in fretta gli archivi sono esattamente dall'altra parte quelli è una squadra di truppe di Cerberus infuriate oh cavolo troppo vicino per usare un uccelli di precisione prendi questo maledizione non volevano proprio farci passare questo conferma i miei sospetti sul valore dei dati memorizzati qui non sanno tenere le imboscate sti qua grazie